Ieri sera la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui la Procura aveva impugnato l'ordinanza di dissequestro dell'impianto emesso nello scorso maggio dal Tribunale del Riesame. Per la magistratura penale le fonderie Pisano possono continuare a lavorare. Dal Comitato Salute e Vita il Presidente Lorenzo Forte non nasconde la delusione. Avevamo sperato nella Cassazione, tuttavia sapevamo che la Corte non entra nel merito ma si ferma alla forma procedurale. Noi non ci fermiamo, questa pronuncia non cancella i fatti verificati anche dall'ARPAC e noi domenica mattina saremo in piazza a Fratte per chiedere che a questo punto la politica faccia la sua parte e chiuda la fabbrica.